Musica Doppia seduta di allenamento quest'oggi per l'Udinese che sta preparando la sfida contro l'Inter di Pioli e ancora permane il dubbio legato alle condizioni di Alfredson Nell'evoluzione avuta dall'Udinese con Gigi Denneri in panchina emerge un dato importante la squadra subisce pochi gol e poche occasioni e anche l'attacco ne beneficia Visita gradita quest'oggi allo stadio Friuli Dacia Arena a trovare il suo ex compagno Gigi Denneri è venuto Walter Franzotta, sentiremo le sue parole ai nostri microfoni Inter a Marbella, protagonista di un triangolare di certo non probante contro due squadre di terza divisione spagnola la squadra nera azzurra farà rientro a Milano per l'Epifania Musica 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 Buonasera amici appassionati bianconeri di Udinese TV e ben ritrovati con l'informazione sportiva targata Udinews come ovviamente si evince dai titoli sarà un TG sportivo dedicato principalmente alla sfida di campionato dell'8 gennaio delle 12.30 tra Udinese e Inter con le due squadre che stanno affrontando ovviamente un tipo di preparazione ben diversa l'Udinese al centro sportivo di Nobruseschi, l'Inter a Marbella in Spagna dove le temperature sono sicuramente più umidi rispetto all'inverno in Italia e in particolare in Friuli però a noi interessa soprattutto capire cosa è successo oggi nella doppia seduta di allenamento dei bianconeri e ci facciamo raccontare tutto da Fernando Siani Doppia seduta di allenamento in questo martedì per l'Udinese e i Gigi Del Neri in vista della gara con l'Inter prosegue il mini ritiro che durerà fino a giovedì alla di Moret la squadra si sta riunendo in albergo per cercare di trovare la giusta concentrazione in vista di quella che è la prima gara del 2017 qui al centro sportivo Bruseschi su un tiepido sole che ha fatto compagnia alla formazione bianconera i ragazzi sono allenati prima con la consueta sessione atletica in principio c'è stato un torello molto divertente grandi sorrisi a testimonianza che il morale è sempre altissimo poi sessione atletica agli ordini di Andrea D'Urso infine Mister Del Neri ha diviso il gruppo in due parti con un gruppo che si è disimpegnato sul campo numero 4 proseguendo su esercizi personalizzati e invece una parte è rimasta con Gigi Del Neri per cercare un po' di oliare quelli che sono i meccanismi di gestione del pallone sia in fase offensiva che in fase difensiva grandi consigli per Sven Coombs in fase di regia poi ovviamente ne ha avuto anche per quelli che sono i difensori nella difensiva provata Felipe, Angela, Widmer e Ali Adenan mentre Mezzali hanno giocato Fofanà e Janto Coombs in cabina di regia protagonisti poi anche Matos e Lucas evangelista non ha preso parte all'allenamento Cyril Theroyle francese alle prese in palestra per recuperare da alcuni acciacchi fisici purtroppo neanche Emil Alfredson si è reso protagonista qui al centro sportivo Bruseschi sui mantierbosi al centro sportivo Bruseschi per lui ancora un problema al collo molto fastidioso che ne sta limitando il rendimento in questa prima parte di 2017 Terro che si sta gestendo insomma visto comunque i tanti impegni ravvicinati Alfredson che continua a combattere proprio con questo fastidiosissimo torcicollo che lo tormenta proprio dalla partita contro la Sampdoria speriamo che possa tornare a disposizione visto che mancherà ovviamente Badu che così come Vaguè è in Africa per la Coppa Continentale vi ricordiamo di staccare il biglietto se non l'avete già fatto per Udinese Inter ma oggi è anche il giorno d'inizio della vendita dei tagliandi per Udinese Roma oggi alle ore 16 è scattata la vendita proprio dei biglietti per Udinese Roma tutte le informazioni sono riepilogate qui per la gara che si giocherà il 15 gennaio alle ore 15 allo stadio Friuli d'Aciarena e appunto tutto quello che dovete sapere è proprio sul sito ufficiale bianconero perché ci sarà un altro grande big match subito dopo Udinese Inter che vivremo proprio l'8 gennaio alle 12.30 in questa evoluzione che ha avuto l'Udinese con Gigi Denneri dicevamo un grande merito lo ha avuto la ritrovata solidità difensiva con Widmer, Danilo, Felipe, Samir ma anche tutti quelli che sono stati chiamati in causa una squadra che adesso subisce davvero pochi gol Tutti utili ne sono indispensabile neanche con queste parole che Gigi Denneri ha ripreso in mano l'Udinese una squadra che nelle recenti stagioni nell'alternarsi di guide tecniche stramaccioni con l'Antuono, De Cagno, Iachini aveva un po' dei problemi al timone per mantenere la giusta rotta per navigare nelle acque tranquille della classifica quelle acque che ti permettono di avere serenità per poi puntare a mete suggestive fino anche all'Eldorado si era persa questa sensazione ma Gigi Daquilei è riuscito a riportarla in Friuli anche grazie all'approfondita conoscenza della realtà udinese in tutte le sue sfaccettature la tranquillità però è stata raggiunta con dei buoni risultati ma va detto anche grazie all'incredibile lentezza delle squadre che vogliono rimanere in Serie A ormai però nulla è lasciato al caso perfetto e tempestivo l'intervento della società dopo Cagliari lo abbiamo detto a più riprese dopo quella partita giocata bene ma persa male da lì dieci punti consecutivi hanno dato una nuova fisionomia alla classifica in vista del mese pieno di grandi sfide che si profila all'orizzonte con una prima metà di stagione impreziosita da statistiche importanti come i primi posti nella Serie A per numero di giovani schierati vedi lo stesso Fofana maggior numero di chilometri percorsi in campo a testimonianza di un'ottima forma fisica e minor numero di occasioni concesse a segnalare come il nuovo assetto con Widmer e Samira ai lati di Danilo e Felipe abbia trovato grande solidità senza dimenticare i preziosi apporti di chi è stato chiamato in causa come Angella, Faraoni, Vagherto, Ali Adnan quando la difesa non è stata propriamente impermeabile poi ci ha pensato Restis Carnezi sul nome una garanzia per il secondo anno consecutivo Zebretta d'oro non a caso perché questo dinese la via del gol la trova spesso e volentieri ma come si sa a volte il miglior attacco è la difesa Tanti giovani utilizzati dall'Udinese c'è anche un riconoscimento importante da parte del sito della UEFA che parla dei giovani centrocampisti in rampa di lancio nel campionato italiano al primo posto troviamo Fran Chessi dell'Atalanta il giocatore ivoriano è il giocatore che sarà sicuramente un grande prospetto dei prossimi anni al secondo posto Diavara del Napoli Pellegrini, italiano del Sassuolo Gagliardini dell'Atalanta parleremo di lui perché è entrato pesantemente in orbita Inter Locatelli del Milan ma hanno anche altre nomination tra cui Seco Fofana dell'Udinese insieme a Torreira della Samp e Nuge del Bologna il giocatore ungherese e quindi insomma un buon riconoscimento per Seco Fofana che sta facendo davvero un grandissimo campionato soprattutto da quando è arrivato Gigi Del Neri ha trovato la sua dimensione chi ha ritrovato quella che è stata la sua dimensione più di qualche anno fa è Walter Franzot che oggi è venuto a trovare l'Udinese i suoi ex amici ma soprattutto il suo ex compagno di squadra Gigi Del Neri sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni ma sono venuto innanzitutto per salutarlo era tanto tempo che non lo vedevo da tempi di Verona quando lui era allenava lì io essendo di Rovereto abito a Rovereto nel Trentino era più facile incontrarsi e ho colto l'occasione per le vacanze sono venuto appunto ad arocchiata a lui e anche alla Daniera a tutti i miei amici di una volta ecco li ho trovati un pochettino più più rotondetti ma sempre in forma Del Neri ma io da giocatore o da allenatore ma era bravo su entrambe le cose quando giocava lui era un uomo d'ordine un uomo di regia come come allenatore avete visto i risultati che ho ottenuto in diverse società e adesso invece un pensiero sull'udinese attuale ma io mi auguro che con la sua medicina si risalesse ancora di più e diventi la squadra che tutti i friulani si augurano appunto perché per i friulani l'udinese è tutto ecco il pensiero più bello legato al suo periodo all'udinese ma direi i anni che giocavo qui erano i primi anni che cominciavo venendo da un paesino a vivere in città venire a Udine una volta era come andare in America adesso per un giovane o un ragazzo venire a Udine e trovare dei giocatori molto validi che poi ho avuto la fortuna di fare prima anche prima i giocatori poi i allenatori e alcuni anche i giocatori sportivi vedi Arieto Braida e via discorrendo per cui Udine sarà sempre un mio ricordo ci trasferiamo sul campo di allenamento dell'Inter per vedere qualche immagine non è però la pinetina bensì Marbella dove si è allenata questa mattina l'Inter e attualmente in corso sta sostenendo il triangolare con Linense e Marbella stessa la prima gara tra le spagnoli l'ha vinta Marbella padrone di casa ai rigori 9 a 8 l'Inter adesso sta giocando con la sconfitta Linense con la formazione formata da Andanovic D'Ambrosio Murillo Andreoli Miango Ebrozovic New Curie Candreva Eder Gabigol e Palacio queste le scelte quindi anche risparmiati alcuni big tra quei cardi anche se ci sarà poi la seconda partitina da 45 minuti con i padroni di casa vedremo se l'Inter si aggiudicherà questo trofeo in questa preparazione è l'unica squadra italiana che in quest'inverno è andata fuori dall'Italia per questo richiamo di preparazione imperversa però anche il mercato in chiusura visto che Felipe Melo ha rotto con l'Inter da ora per me parlerà solo il Palmeiras chi dovrebbe sostituirlo è Gagliardini che però intervistato o meglio intercettato fuori da Zingoni ha detto ci vediamo qui anche domani lui ha detto per forza che faccio muoio ha fatto ovviamente una battuta per dire che rimarrà ancora l'Atalanta anche se le voci di mercato dicono il contrario sembra che dovrebbe essere già un giocatore dell'Inter a partire dalla sfida proprio contro l'Udinese poi ovviamente Pioli deciderà se utilizzarlo o mero i test medici potrebbero verificarsi addirittura già nella giornata di domani era questa l'ultima notizia del nostro TG Sportivo o meno resta che salutarvi e lasciare la linea ad Angela Caino per tutto il resto delle notizie di giornata smascherato dai carabinieri un benzinaio di Osoppo aveva simulato di essere stato rapinato per trattenersi l'incasso infortunio sul lavoro a Pannelli a Di Sedegliano un operaio ha riportato delle ferite dopo aver subito uno schiacciamento mille ispezioni 500 violazioni 4 milioni di euro di prodotti sequestrati e il consuntivo 2016 dell'attività dei NAS in provincia di Udine al via a Tarcento in tanti comuni del Friuli preparativi per i faloi epifanici tradizione che resiste a polemiche e passaggi generazionali Buonasera anche dalla redazione cronaca di Udinews in apertura lo avete sentito nei nostri titoli un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Buia si era inventato tutto e aveva simulato una rapina per impossessarsi dell'incasso del distributore di carburante maturato nei giorni precedenti protagonista della farsa un dipendente di una stazione di rifornimento di Buia ci racconta tutto Davide Zanirato nel primo servizio i carabinieri della norma della compagnia di Tolmezzo e della stazione di Buia hanno denunciato in stato di libertà una 34enne residente ad Osoppo per il reato di furto aggravato e simulazione di reato l'uomo dipendente presso un distributore di carburanti situato lungo la strada provinciale che era il casello della A23 di Gemono Osoppo porta a Buia aveva denunciato nella giornata di lunedì 2 gennaio di essere stato vittima di una rapina ad opera di due soggetti che armati di coltello gli avrebbero asportato l'incasso del distributore automatico dopo averlo rinchiuso nei bagni della stazione di servizio scappando quindi a bordo di un furgone e facendo perdere le loro tracce le indagini immediatamente avviate dai militari dopo che il benzinaio si era presentato in caserma per sporgere denuncia hanno permesso di accertare che l'uomo si era inventato tutto e aveva simulato l'evento delittuoso al fine di impossessarsi dell'incasso del distributore di carburanti relativo ai giorni precedenti ammontante a 1410 euro i carabinieri gli hanno trovato addosso 490 euro in contanti scoprendo inoltre che la porta del bagno dove il dipendente aveva raccontato di essere stato rinchiuso dai rapinatori in realtà era stata chiusa dall'interno ed ancora le telecamere della videosorveglianza erano state spente appositamente prima della rapina il denaro è stato interamente recuperato e sottoposto a sequestro il soggetto quindi è stato deferito alla procura della Repubblica di Udine e per la cronaca ci spostiamo ora a Panneglia di Sedegliano dove oggi si è verificato un infortunio sul lavoro sentiamo Francesca Santoro grave infortunio sul lavoro allo stabilimento Friulforgia di Sedegliano un operaio mentre stava lavorando nell'azienda che produce macchine utensili per la formatura del metallo è rimasto ferito riportando un grave trauma da schiacciamento a un arto sono stati i colleghi a soccorrerlo e a chiedere immediatamente l'intervento del 118 il personale sanitario ha raggiunto la zona industriale di Panneglia di Sedegliano a bordo di un'ambulanza mentre l'equip medica è sopraggiunta con l'elicottero decollato dalla centrale operativa di Udine il ferito è stato quindi stabilizzato e trasportato all'ospedale di Pordenone sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine e i tecnici del servizio prevenzione igiene sicurezza in ambienti di lavoro per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente le condizioni del malcapitato sono gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita in Friuli Venezia Giulia non c'è un allarme specifico di terrorismo con droni o con macchine rubate è una delle mille ipotesi che girano e per le quali dobbiamo prestare la massima attenzione in un'attività di prevenzione lo ha dichiarato all'ANSA il prefetto di Trieste Anna Paola Porzio commentando la notizia relativa a un alert diramato sull'argomento da parte di un comando di polizia di frontiera in un'attività consuetudinaria ha spiegato Porzio e il ministero dell'interno mette a conoscenza tutte le prefetture degli spunti di interesse in questo caso ci è arrivata una comunicazione di carattere generale relativa a una possibile e nemmeno probabile azione con i droni o con auto rubate ma non c'è un allarme specifico che viene dal Friuli Venezia Giulia o ha come obiettivo specifico la nostra regione ha concluso il rappresentante del governo nessun commento alla notizia né da parte della questura di Udine né da parte del compartimento della quarta zona di polizia di frontiera del Friuli Venezia Giulia e nessuna emergenza o epidemia da meningococco la vaccinazione è comunque assolutamente consigliata lo afferma la direzione centrale salute della regione che sottolinea il fatto che nel 2016 in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati tre casi due nel 2015 in linea con gli anni precedenti la vaccinazione aggiunge la regione è la misura più efficace per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni da meningococco poiché assicura una protezione diretta della persona vaccinata e indiretta nei confronti della popolazione riducendo la circolazione del batterio anche negli eventuali portatori il batterio si annida infatti in modo benigno nella gora di portatori sani e sporadicamente contagia chi ha contatti con loro le fasce d'età più a rischio sono da 0 ai 5 anni adolescenti e giovani adulti la regione dal 2008 offre gratuitamente la vaccinazione contro il meningococco di tipo C il più aggressivo e frequente in Italia e in Europa fino ai 25 anni d'età e alle persone con patologie croniche molti genitori hanno però disatteso l'invito e solo nelle ultime settimane è aumentata la domanda di vaccinazione nei prossimi giorni la giunta regionale dovrebbe deliberare la gratuità anche della vaccinazione contro il meningococco di tipo B a tutti i bambini fino a 5 anni di età pur se non specificatamente indicato dal piano nazionale prevenzione vaccinale le parti politiche sono divise sull'opportunità o meno di riaprire il CIE di Gradisca il centro di identificazione e espulsione la presidente della regione Serracchiani si è già detta contraria annunciando che per parlarne a breve incontrerà il ministro Minniti sentiamo Francesca Santoro resto convinta che sia necessario aumentare le espulsioni e che i CIE i centri di identificazione ed espulsione non siano l'unica soluzione anzi nella forma che abbiamo conosciuto non hanno funzionato per niente un'affermazione quella della presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani destinata a far discutere commentando le ultime decisioni del governo sulla lotta del terrorismo la governatrice ha fatto riferimento alla negativa esperienza del CIE di Gradisca chiuso nel 2013 annunciando l'intenzione di chiedere a breve un incontro con il ministro Minniti con la possibile riapertura di un CIE in regione rischiamo di ripercorrere situazioni già vissute e che si sono rivelate fallimentari siamo contrari all'apertura del CIE e quando era aperto abbiamo più volte contestato la sua funzione il commento del capogruppo del PD in consiglio regionale Diego Moretti di tutt'altro parere il capogruppo leghista alla Camera e segretario del Carroccio in Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga Seracchiani ha poche idee ma ben confuse sull'immigrazione dichiarandosi da un lato favorevole all'incremento delle espulsioni ma dall'altro contrario alla riapertura dei CIE dimostra di essere priva di argomenti validi i CIE rappresentano l'unico strumento utile a impedire ai clandestini di circolare liberamente sul territorio e di delinquere intanto secondo gli ultimi dati del Viminale hanno raggiunto quota 4870 i migranti presenti in regione il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso della provincia di Udine contro la nomina del commissario tecnicamente il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato l'istanza cautelare presidenziale proposta dalla provincia di Udine il 31 dicembre scorso l'impugnativa proposta verrà trattata nella prossima Camera di Consiglio forse il 25 gennaio la nomina del commissario ad acta era stata deliberata il 2 dicembre scorso torniamo alla situazione della IpoBank alla chiusura di tutte le filiali italiane e ai conseguenti licenziamenti se ne è parlato oggi in un incontro nella sede della regione a Udine vediamo i 103 dipendenti di IpoBank già licenziati potranno contare sull'aiuto della regione per rientrare nel mondo del lavoro e quanto assicurato la governatrice Deborah Serracchiani nell'incontro con i sindacati Fabi Firth CISL Fisac CGL e Wilka dopo l'accordo sindacale sottoscritto il Ministero del Lavoro lo scorso novembre due temi affrontati nel corso del vertice per quanto riguarda la fase appena conclusa dei 103 licenziamenti di cui 34 in Friuli Venezia e Giulia la regione ha confermato l'impegno a intraprendere appunto politiche attive per il ricollocamento lavorativo per l'ulteriore procedura di licenziamento che sarà avviata la regione ha garantito la propria disponibilità a seguire il percorso dei lavoratori che saranno lasciati a casa in tutto 160 in gran parte della filiale di Tavagnacco non appena saranno comunicati gli uffici i profili del personale da ricollocare la regione avvierà gli strumenti di politica attiva operando all'interno di una strategia già collaudata che prevede un collegamento fra la formazione e il mondo produttivo per individuare le professionalità richieste del mercato nell'immediato la Presidente ha annunciato che sarà organizzato un incontro con l'amministratore delegato di IpoBank dai ristoranti alle case di riposo e ancora dalle mense delle scuole passando al doping e alle nuove droghe per i carabinieri dei NAS quello che si è appena concluso è stato un anno molto intenso il bilancio nel servizio di Davide Zanirato il nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Udine nel 2016 in Friuli Venezia Giulia ha effettuato circa mille ispezioni tra aziende e strutture operanti nel settore alimentare e sanitario accertando oltre 500 violazioni e contestando sanzioni amministrative per oltre 550 mila euro sono quasi 500 le persone segnalate alle autorità competenti giudiziari amministrative e sanitarie nei cui confronti sono stati sequestrati prodotti attrezzature e locali per un valore di oltre 4 milioni di euro l'attività del comando carabinieri per la tutela della salute nell'ambito dei compiti istituzionali ha sviluppato di concerto con il ministero della salute un'intensa attività di controllo sull'intero territorio nazionale finalizzata la prevenzione e la repressione di tutti quei fenomeni che possano mettere a rischio la salute dei cittadini nei settori alimentare sanitario dei farmaci e dell'assistenza complessivamente in Italia nel 2016 sono state sequestrate 65 mila tonnellate di prodotti pericolosi per un valore commerciale di circa 750 milioni di euro emettendo oltre 21 milioni di euro di contravvezioni il bilancio dell'attività comprende anche 120 persone arrestate e 4.700 denunciate i settori nei quali sono state rilevate le maggiori infrazioni riguardano la ristorazione soprattutto connesse alla mancata tracciabilità dei prodotti alimentari e a carenze igienico-sanitarie particolare attenzione è stata riposta alla tutela della salute dei bambini con controlli accurati presso le mense delle scuole di ogni ordine e grado ma anche nella tutela delle persone anziane con controlli presso le case di cure e le strutture ricettive sgominato inoltre un traffico internazionale di sostanze dopanti mentre per il futuro saranno sempre più stringenti i controlli volti al contrasto del traffico delle nuove sostanze stupefacenti e alla vendita sul web e sul deep web di sostanze psicoattive e il soccorso alpino di Emo Giudinese ha tratto in salvo altri due escursionisti in difficoltà a causa del buio è successo ieri sera sul Montecitta Pontebba protagonisti due torinesi di 37 e 33 anni partiti dall'abitato di San Leopoldo Laglesi e una frazione a 600 metri di altitudine volevano raggiungere passo Pramollo passando per il sottogruppo dei Monticitte seguendo il sentiero Cai e 523 a 1500 metri non hanno però potuto proseguire a causa di una frana e hanno deciso di tornare indietro non avendo portato con sé le torce frontali sono stati colti dal buio e hanno deciso di contattare il 112 una squadra di soccorritori composta da due tecnici della guardia di finanza di Sella Nevea e quattro uomini del soccorso alpino di Moggio si è così incamminata raggiungendoli alle 19.20 escoltandoli alla luce delle pile a valle dove sono giunti attorno alle 21 al via a Tarcento ma anche in tanti altri comuni del Friuli i preparativi per i falò epifanici tradizione che resiste a polemiche e passaggi generazionali sentiamo Davide Zanirato al via a Tarcento la tre giorni dell'epifania friulana che culmina nella serata del 6 gennaio alle 19 a Coia con l'accensione del Pignarul Grant il fallo maestro per il Friuli dalle cui lingue di fuoco il vecchio venerando al secolo Giordano Marsiglio trarrà gli auspici per il nuovo anno appena incominciato abbiamo la serata del 4 che vi aspettiamo numerosi all'auditorio delle scuole medie dove ci sarà la cerimonia di consegna del 62 premio epifania attribuita quest'anno a Pietro Pittaro e Donny Antonio Villa abbiamo il 5 che è la giornata alla vigilia la giornata dedicata ai Pignarulars che si concluderà alla sere lungo Viale Marinelli con la spettacolare corsa dei carri infuocati dove si cimenteranno un po' le frazioni che fanno il Pignarul il giorno 6 che è il giorno clou mattina alle 11 vi aspettiamo in Piazza Libertà ci sarà l'arrivo della Befana il pomeriggio ci saranno numerosi intrattenimenti con gli sbandieratori 18 e 30 ci sarà accompagnati dal vecchio venerando la salita infiaccolata con il vecchio venerando per arrivare qui al Pignarul Grand di Coia dove alle 19 ci sarà l'accensione con gli auspici del vecchio venerando e poi la degna conclusione lo spettacolo pirotecnico alle ore 20 lo spettacolo pirotecnico che conclude queste manifestazioni epifaniche speriamo che l'anno sia di buon auspicio della tradizione dei Pignarui ma anche della loro ecosostenibilità dei riflessi sull'inquinamento dell'aria e sul rischio incendi si parlerà questa sera nella puntata di Fuori Tutto in onda dalle 21 su Udinese TV siamo in chiusura diamo allora uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani la nostra regione è interessata da correnti settentrionali mercoledì in giornata passerà un fronte proveniente dalla Scandinavia seguito poi da masse d'aria molto fredde e secche per domani mercoledì 4 gennaio avremo cielo in genere poco nuvoloso e farà piuttosto freddo anche di giorno sulla costa vento da sud ovest debole o moderato e sui monti in quota soffierà vento da nord ovest sostenuto specie nel pomeriggio e in serata sulla bassa pianura possibile locale presenza di foschia nelle ore notturne le temperature avremo minime di meno 5 meno 1 in pianura 1-4 gradi di minima sulla costa e le massime andranno dai 4 ai 7 gradi in pianura un grado in più 5-8 gradi di massima invece sulla costa salendo in quota a mille metri avremo una temperatura media di meno 2 gradi e stessa temperatura anche a 2000 metri di altitudine ed è tutto per questa edizione del nostro Tg io vi ringrazio per la vostra attenzione e come sempre vi invito a rimanere in nostra compagnia buona serata a tutti per la vostra per la vostra